I nuovi appuntamenti musicali di Mito Settembre Musica si tingono di internazionalità e presentano due serate ricche di sonorità strumentali. Sud americana d'origine, europea d'adozione, l'enfante prodige Martha Erich torna a Milano per il più romantico tra i concerti per pianoforte. Dopo il debutto con la Filarmonica del giugno 2016 per il concerto per Milano and Play in Nair in Piazza del Duomo, l'icona del pianismo mondiale suonerà stasera alle 21 alla Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi in Anima e Corpo, lo spettacolo musicale suddiviso in due parti. Si esibiranno rispettivamente Martha Erich, nella prima e l'orchestra giovanile dello Stato di Bahia Neoyiba nella seconda. Preceduto da una breve introduzione di Gaia Varon, il concerto sarà diretto da Riccardo Castro e vedrà come scaletta la seguente successione di brani, concerto in la minore per pianoforte e orchestra hop. 54 di Robert Schumann, Overture da West Side Story di Leonard Bernstein, Sono Spercutidos di Wellington Gomes, Cuban Overture di George Eshwin, Dance on N. 2 per orchestra di Arturo Marquez. Domani invece, saranno gli strumenti ad arco a essere i protagonisti della serata milanese, alle 21 al Piccolo Teatro Grassi si esibirà il Kronos Quartet, famoso per aver ripensato il tradizionale suono del quartetto d'archi. Originario di San Francisco, il gruppo è consolidato ormai da 45 anni ed è stato capace, nella sua lunga carriera, di unire lo spirito di esplorazione alla capacità di rinnovare la forza dei propri strumenti. Il celebre ensemble è così arrivato a vantare migliaia di concerti, decine di incisioni discografiche e notevoli riconoscimenti, tra cui il Grammy Award, il Pauler Music Prize e l'Ivery Fisher Prize. Il quartetto formato da David Arrington e John Sherba al violino, Hank Dutta alla viola e Sunny Jan al violoncello suonerà 12 brani, di cui quattro prime esecuzioni italiane.